I disservizi nella sanità di Capitanata non sembrano avere fine ad essere toccate tutte le categorie, fasce deboli, diversamente abili, gente che ha bisogno di cure a domicilio. L'assistenza domiciliare integrata da qualche mese, da ben sette mesi non viene erogata a circa 149 famiglie su Apricena, Lesina e Sanicandro Garganico. Il problema sarebbe la CSS che non erogerebbe gli stipendi a circa 20 paramedici che fino a ieri prestavano assistenza domiciliare. Si sta muovendo l'associazione Superamento Handicap, sono pronti ad arrivare al Ministero e al Tribunale dei diritti del malato. Ci sono 20 paramedici che facevano il servizio domiciliare, che mantenevano questo servizio domiciliare su 140 pazienti, come hai detto. Però adesso tutti questi pazienti sono abbandonati anche nel letto. Abbiamo interpellato molte volte i propri dirigenti dell'ASA e della provincia. Si fanno negare, oppure anche con raccomandate ricevute di ritorno non si presentano mai gli appuntamenti. Poi con il comune di Apricena c'è Tommaso Pasqua, l'assessore di servizi sociali, che ci potrebbe dare una mano con i piani di zona, ma come ho detto prima la CSS non rientra nei piani di zona. Però noi non sappiamo se è un problema dell'ASL o un problema della cooperativa. Però la cooperativa, l'ASL dice che loro la cooperativa l'hanno pagata. Se lei è uno di quelli che avrebbe bisogno di questa assistenza domiciliare e da tre mesi non le viene erogata, che problemi ha oggi? Quali cure non le vengono prestate? La terapista, l'igienista e l'infermiere che mi fa il catetere, mi misura la pressione, che fa il prelievo, eccetera. Queste cose adesso pago tutto, non ho più garza, non ho più niente, devo pagare tutto. Io cercherò adesso di mettermi in contatto con l'ospedale di Ostia, mi faccio ricoverare l'anno. Che il costo si aggira sulle 1.500 euro al giorno. Quando qua potremmo spendere una fesseria? 150, diciamo pure 200.